Patricia Corwell ha sicuramente segnato gli anni 90 per quanto riguarda il genere thriller, ha creato a suo modo un piccolo sottogenere, quello relativo ai serial killer, ma soprattutto quello che ha avvicinato, ha sdoganato in qualche modo il tavolo non della sala operatoria ma addirittura dell'obitorio. Infatti le autopsie, il modo con cui le ha raccontate, condivisa di dettagli e di particolari proprio grazie anche alla sua esperienza professionale hanno segnato e hanno creato anche degli altri scrittori che hanno seguito la sua falsariga. Arrivato al ventunesimo capitolo con le avventure di Kay Scarpetta, polvere, ahimè segna un pochino il passo, dopo tanti anni c'è un po' di stanchezza, non tanto nel personaggio di Kay Scarpetta, anche come viene raccontato del marito Benton che lavora per l'FBI, lei nel frattempo si è trasferita, lavora nel Massachusetts vicino a Boston, a Cambridge, qualcosa è cambiato sicuramente nella sua vita, c'è il peso di qualcosa che ci viene raccontato, accade appena prima dell'inizio di questo romanzo. E' proprio uno dei problemi di questo romanzo, è proprio il fatto che non scorre e che per 80-90 pagine, le prime, ci viene raccontato quello che accade prima di scoprire il cadavere. Attraverso, insomma, dettagli un po' lunghi, un po' noiosi, è uno di quei libri in qualche modo in cui tutto accade al di fuori, si direbbe fuori dallo schermo per quanto riguarda un film, ma si può dire tranquillamente anche per quanto riguarda un libro. Cioè tutto ci viene raccontato indirettamente e poco invece accade di interessante, proprio indiretta in qualche modo, mentre ci viene scritto, dettagliato e raccontato da Patricia Corvole. E questo è uno dei problemi di un libro farraginoso e questa polvere a me sembra un pochino sedimentata sul tavolo dell'autopsia, nel frattempo diventato addirittura in 3D, ma c'è stanchezza e questo sicuramente non aiuta. Ebbene, questo ventunesimo capitolo ci fa pensare, ci fa dire che probabilmente ci sarebbe bisogno di aspettare ancora qualche tempo, di trovare un'idea giusta per tornare a raccontare la ventiduesima avventura di Kei Scarpetta. Può accadere in una carriera così lunga, sicuramente, però ci sentiamo di dire, cara Kei Scarpetta, alla prossima, questa volta però non è andata bene.